E ogni tanto si possono commentare anche delle buone notizie, sembrerebbe. L'AMA, la società dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti di Roma, dice di aver raccolto 3100 tonnellate nelle ultime 24 ore. Quindi raccolte 3100 tonnellate e avviate al trattamento dei rifiuti indifferenziati. Un dato che sommato ai giorni precedenti fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana a oltre 16.000 tonnellate. Proseguo intanto oggi nei 4 turni lavorativi il lavoro degli operatori ecologici e dei mezzi per assicurare la regolarità dei servizi di raccolta e rimuovere le residue giacenze di rifiuti attorno ai cassonetti. Oramai sempre più circoscritte. Rafforzati i turni di lavoro nelle autorimesse e nelle officine aziendali per garantire la massima efficienza anche domenica. La situazione è in via di normalizzazione, lo riferisce AMA in una nota. Ricordiamo AMA, una delle più grosse società di questo tipo in Europa, con ben un ingresso, un'entrata di 700 milioni di euro all'anno con 8.000 dipendenti di cui 4.000 netturbini. Il problema era mille netturbini in malattia, il 55% dei mezzi che non funzionano, dipendenti che rubano la benzina e dicono ma lo facciano tutti. Quindi questa situazione speriamo che veramente si stia normalizzando. Se dovesse normalizzarsi speriamo che non accada più e un consiglio se qualcuno da Roma, dell'AMA o del Comune ci ascolta, non è solo ritirare la spazzatura ma bisognerebbe anche in qualche modo rimuovere, non so come, non sono un esperto, tutto il liquame nero, quel cemento sotto i cassonetti diventato nero proprio dallo sciogliersi dei rifiuti. Quindi quello andrebbe in qualche modo con degli idranti a base di qualche sostanza che possa disinfettare e togliere quel marciume che rimarrà sotto e anche appiccicato ai cassonetti perché a volte i cassonetti sono veramente inguardabili. Voi dite ma sono cassonetti della spazzatura? Ma anche il cassonetto vuole essere guardato con un certo occhio. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima notizia.